Ciro Lodato Traslochi, Cava dei Tirreni, al corso Umberto I 281 Il progetto Ascoltandoti accompagno Campania, presentato dalla Caritas Diocesana di Amalfi Cava dei Tirreni, è stato finanziato nell'ambito del Servizio Civile Universale. Il progetto, della durata di 12 mesi per un totale di 4 posti, si realizzerà tra il 2022 e 2023. Il direttore e il segretario della Caritas Diocesana di Amalfi Cava dei Tirreni, Don Francesco Della Monica e Luca Bellopede, hanno illustrato il bando. La Caritas Diocesana di Amalfi Cava dei Tirreni, grazie al Servizio Civile Universale, da quest'anno ha la possibilità di offrire una preziosa occasione ai giovani del nostro territorio. L'esperienza sarà di duplice valenza. Innanzitutto, la prima riguarda proprio la possibilità che i giovani avranno di cimentarsi nel mondo del volontariato, del terzo settore. La nostra cittadella della Carità, pertanto, apre la porta a quattro giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e saranno impegnati in un progetto che si occuperà proprio di accogliere le persone più bisognose nella nostra cittadella e di aiutarli, mediante l'ascolto oppure mediante l'emporio della solidarietà, a vivere un periodo un po' più sereno. L'esperienza, dicevo, è duplice perché da una parte c'è questa occasione di conoscere il mondo del terzo settore per i ragazzi, la seconda poi riguarda loro perché potranno ricevere un piccolo rimborso spese di 444 euro per un intero anno. Saranno impegnati per 25 ore settimanale, 5 ore al giorno per 5 giorni della settimana. Giorni dispari dalle 9 alle 14, martedì e giovedì dalle 15 alle 20. Tre saranno posti disponibili per qualsiasi persona, mentre invece un posto sarà riservato a una categoria fragile, una categoria protetta. I tempi sono molto stretti perché il bando è stato integrato con 40 milioni di euro pochissimi giorni fa, quindi il 10 febbraio alle ore 14 è il termine ultimo per presentare la domanda. Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, la domanda si consegna esclusivamente online, quindi la modulistica non è cartacea, ma l'iscrizione bisogna effettuarla andando sul sito del Servizio Civile e vi indico qual è l'URL, domandaonline.serviziocivile.it, bisogna essere muniti di speed, è essenziale, e si può scegliere poi all'interno di questa pagina il progetto. Il nostro progetto della Caritas Viocesana si chiama Ascoltandoti accompagno Campania, in modo da evidenziare subito la nostra sede. Oppure si può andare per il codice sede-progetto che è 18-26-07 e si arriva immediatamente a quella che è la domanda per il progetto nella nostra sede. I posti disponibili sono quattro, uno è riservato a una categoria fragile, un giovane con minore opportunità, deve avere un ISEE inferiore o pari a 10.000 euro e questo va legato all'interno della domanda. Bisogna aver compiuti 18 anni e avere al massimo 28 anni e 364 giorni alla data della presentazione della domanda. Per ulteriore chiarimento e informazioni potete contattarci in Caritas i giorni dispari dalle 10 alle 13 o i giorni pari dalle 16 alle 19 allo 089 29 65 008 oppure collegandosi al sito www.caritasamarficava.it ci sono molte informazioni relative al nostro progetto.